Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno dal centro commerciale Porto di Adria. Bella questa iniziativa, Green Christmas, il Natale fatto a mani dai bambini, con più di mille addobbi realizzati con materiali di riciclo da 17 scuole del territorio. Naturalmente un ringraziamento va oltre al centro commerciale a tutte le maestre che con tantissima dedizione hanno svolto il progetto Assieme ai Bambini. L'installazione sarà nel centro fino al 3 gennaio e le scuole partecipanti sono state la primaria Vittorino da Felta di Adria, la scuola primaria Gibistella di Taglio di Po, la scuola primaria Dante Alighieri di Popozze, la scuola Sante Tiozzo di Porto Viro, scuola infanzia Collodi di Cavarzere, scuola infanzia Bottoni di Popozze, scuola primaria Capato Taglio di Donada, scuola primaria Porticino Porto Viro, scuola Andersen Cavarzere, scuola primaria Aldo Moro di Porto Viro, scuola Pascoli di Taglio di Po, scuola Piccoli Angeli di Bosco Chiaro Cavarzere, scuola infanzia Fornaci di Porto Viro, scuola infanzia Gregnalin di Adria, scuola infanzia di Contarina Porto Viro, scuola infanzia Arcobaleno Adria e scuola infanzia Serafin di Cavarzere. Complimenti veramente a tutti i partecipanti. Santa Claus is coming to town I'm talking about Christmas Everybody sing Christmas Bringing joy to the world You're good to the world You're good to the world